Vuoi sapere quanto guadagnare con le azioni? Bene, te lo dico in due minuti. Fino a dieci anni fa facevo i tour per alcuni intermediari per insegnare a fare trading. Poi ho smesso, ma questa è un'altra storia, magari un giorno te la racconto. La domanda che più mi facevano era come faccio a guadagnare 2000 euro al mese? Per prima cosa devi sapere che devi fare 2500 euro perché devi pagare il 26% di capital gain. Quindi se fai trading con 100.000 euro dovrai fare il 2,5% al mese. Se fai trading con 10.000 euro dovrai fare il 25% al mese. E se già fai il 2,5% al mese è il 30% all'anno. E ti assicuro, potresti lavorare in qualsiasi trading room di New York. Poi ovviamente non guadagni sempre. Supponiamo che fai il 60% di operazioni giuste e il 40% di operazioni sbagliate. Ed è già tanta roba. Dovrai anche recuperare quindi le perdite che hai con le operazioni sbagliate. Quindi non credere alla teoria della formichina che metti via poco a poco i guadagni. Devi fare i conti anche con Penelope che te li distrugge. Poi ci sono le commissioni. Dello spread te le ho già parlato ma facciamo finta che non ci sia. Ma se operi in un mercato nel regolamentato è come se c'è lo spread. In ogni caso tutto dipende dalla tua operatività. Da quante operazioni fai? Supponiamo che fai 10 operazioni al mese. Non sono tante. A 10 euro. Quindi 10 euro per comprare e 10 euro per vendere. Sono 10 operazioni, sono 200 euro. Ecco, li devi aggiungere agli altri 2.500. Quindi per guadagnare 2.000 euro devi guadagnare 2.700 euro. Quindi per guadagnare 2.500 euro.